si 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 fai cosa sei tu salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dei simpson si ne è uscito uno però era una recensione però abbiamo deciso di cancellarla e oggi faremo qualcosa ancora differente ai simpson ovvero che c'è scritto i simpson hanno davvero previsto il coronavirus certo un video è andato famoso in tutto il mondo iniziamo non ho tempo per altro quindi cosa? il virus di sicuro è il virus ma siamo scherzando mamma si ultimamente in italia ma scusa ma scusa ma allora lascia stare ma allora c'è l'altra terra la psicosi del coronavirus questo virus potentissimo è partito secondo i meno complottissi da un lato e quindi? il lavoratore compri la corporation allevati pronto a sterminare l'umanità per far arricchire come al solito le case farmaceutiche ma sempre le stesse cose ecco ogni volta che un fenomeno esplode in modo simile secondo migliaia di esperti sul web i simpson lo sapevamo i simpson avevano previsto il coronavirus ma è impossibile un cartone animato non può avere il coronavirus ma non è esattamente così l'immagine incriminata che ha fatto un giro immenso di condivisioni sui social è la seguente ma quanto c'è di vero in quest'ultima ah quindi tutte le immagini di rispetto dell'immagine corretta nel senso che si tra ah e quindi il questo fotogramma il fotogramma quello quarto questo qua posso farlo indicare e allora questo che c'entra con la prova? in pratica effettivamente di fotogrammi presi dalla serie in particolare i primi tre in senso orario sono presi dall'episodio 21 della quarta stagione marge in catene del 1993 perché esiste un episodio del genere? si l'episodio in cui Homer vedendo in tv una televendita scopre uno spremiaglio no spiegalo tu l'episodio spiegalo tu arriva un pacco dalla Cina e c'è un virus all'interno e quando lo aprono lo prendono tutti via telefonica mo da dove arriva? questo spremia i grumi rullo di tamburi signore e signori oh esatto arriva proprio dall'Asia in particolare viene spedito da Osaka in Giappone giusto? in Giappone non Cina e qui un magazziniere con l'influenza star noticia nel pacco da spedire ad Homer facendo così arrivare ma stai scherzando? negli Stati Uniti un virus che si rivela essere pericolosissimo perchè? perchè si viene a scatenare una sorta di psicosi collettiva assurda quindi si abbiamo capito che possiamo fidarci fra virgolette dei primi tre fotogrammi ma la stessa cosa non vale invece per il quarto cioè quello in basso a destra che è assolutamente e tu come fai a saperlo? perchè non è vero che c'è scritto coronavirus l'hai visto l'episodio? com'è? com'è quell'episodio? troverò questa tratta dell'episodio 6 della stagione 22 com'è questo episodio secondo te? questo è il vero quell'altro era falso full Monty e Kent Brockman non sta parlando del coronavirus ma di tutt'altro infatti sullo schermo dietro di lui non c'è scritto coronavirus nelle immagini originali bensì apocalypse meow perchè avevano tipo incolpato i gatti per un virus lasciato su Springfield da parte di una sorta di società segreta giusto papi l'hai visto quell'episodio? è bellissimo quell'episodio recuperatelo quindi la scritta coronavirus come starete immaginando si è stata aggiunta proprio con photoshop dunque ricapito perchè chi è stato? effettivamente in quell'episodio c'è questo ceppo influenzale che arriva dall'oriente e scatena una pazzia collettiva ma da questo al dire che i simpson siano stati in grado di predire il futuro e quindi che c'entra? hanno prevedito il futuro? previsto previsto? c'è un abisso con una serie del genere ancora in corso ma 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 stiamo scherzando se nel 2022 c'è ancora il coronavirus quindi c'è non è niente grave costa attualmente da 672 episodi ognuno di 20 minuti certo che sono da 20 minuti perchè sembra che gli episodi sono da 20 minuti e invece così è infatti impossibile che determinate cose non vadano a costituire straordinarie coincidenze la serie scherza in continuazione su cosa appartenente alla realtà ed è ovvio che alcuni di questi scherzi si ribellino poi seriamente nella vita reale perciò si perciò cosa? quindi sono solo coincidenze e dunque ragazzi questo è tutto per la nostra per la nostra ehm come è? reaction reaction ai simpson che hanno prevedito il futuro previsto previsto il futuro che è un falso alla fine c'è una fake news certo ma infatti io voglio capirmi una cosa io voglio capire una cosa ragazzi c'è inoltre con sta scritta qua eh infine che cosa c'entra co? lo avevamo previsto certo ma che cosa c'entra dunque ragazzi questa è la mia anche opinione giusto papà? si e i simpson hanno prevedito il futuro ma tranquilli faremo di nuovo la recensione e ciao ciao ciao